Dicevi prima nel corso della presentazione, il giorno dopo che finirà il Matteotti sarò un po' più tranquillo? Ma sì, perché poi dopo... Io sono stato atleta, quindi sai cosa pensa l'atleta? Ho la squadra e so dall'altra parte le squadre le esigenze. Adesso sto cercando piano piano con Renzetti di imparare a fare organizzatore, ma non è semplice. Io ho notato che negli ultimi tre anni ci comincia ad essere interesse, quindi è una cosa bella perché poi rappresenta l'Abruzzo, il percorso visto pure oggi già lo stanno mettendo tutti in sicurezza, al di là di poi tutto lo staff del Matteotti che dovrà ulteriormente migliorarlo, però non mi accontento, cerco sempre di migliorare e ho sempre paura, tra virgolette, di sbagliare qualcosa. Stefano, 74 edizioni e sono tante, che Matteotti sarà questo? Il Matteotti è bello proprio perché è un circuito particolare, ecco quello che è mancato l'anno scorso, che avevamo iniziato qualche anno fa, è vedere su Montesilvano Colle o su Colle Caprino mangiare le arrosticine e magari in seguito proporre proprio la gastronomia abruzzese, perché deve tornare ad essere una sagra, gregare, perché qua anche, diciamo, pure con i telefonini ci stiamo distanziando, allora dobbiamo stare distanziati ma uniti. Quando dopo c'è la passione, pur intorno, io quando correvo, se mi facevano il tifo al Matteotti, c'è anche Renzetti alla lavagna, davo il massimo. Magari ho perso i Matteotti, però mi emozionavo e quel giorno diventavo veramente un fuoriclasse. Magari ho perso.